Buonasera dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1, un chilometro di coda per veicolo in avaria tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Si ricorda che fino all'8 dicembre c'è il tratto chiuso per lavori al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della FIPILI per una frana avvenuta proprio in FIPILI a chilometro 79 e 865. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze, dal lunedì fino al 22 marzo, tranne il sabato e la domenica, in orario notturno, verranno effettuati i lavori di asfaltatura in piazza Ferrucci. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!